Avevamo vent'anni e oltre il ponte, oltre il ponte Ben ritrovati in questa nuova puntata di Avevamo vent'anni. Luca Cappellacci del patronato Inca ci parla di Ape Sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci. Torniamo a parlare delle proroghe contenute nella legge di bilancio del 2021. In particolare oggi parliamo dell'Ape Sociale e della pensione anticipata a lavoratori precoci. Sono delle forme di anticipo pensionistico che erano state introdotte con la legge di bilancio del 2017 e sono state prorogate anche per il 2021. La pensione anticipata a lavoratori precoci, cosiddetta quota 41, è la possibilità per coloro che possiedono almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro dipendente effettivo precedenti il compimento del 19esimo anno di età di poter accedere all'assegno pensionistico con 41 anni di contributi anziché quelli previsti dalla legge Fornero e cioè 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Per ottenere questo sconto sul requisito di anzianità il richiedente deve anche rientrare in una delle quattro categorie di soggetti ritenute dal legislatore meritevoli di tutela disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi invalidi civili con invalidità di almeno 74% familiari che assistono da almeno 6 mesi il parente convivente con handicap grave coloro che hanno svolto almeno 6 anni negli ultimi 7 o 7 negli ultimi 10 un lavoro gravoso oppure usurante. Per poter ottenere la pensione anticipata a lavoratori precoci è necessario fare due domande una prima domanda di certificazione e di verifica dei requisiti di accesso occorre dimostrare di rientrare in una delle quattro categorie dette prima e una seconda domanda che è la domanda vera e propria della prestazione pensionistica coloro che maturano 41 anni di contributi entro il 31 12 2021 devono presentare domanda di certificazione il prima possibile anche l'appe sociale viene prorogata fino alla fine del 2021 l'appe sociale ricordiamolo è la possibilità sempre per le stesse quattro categorie di soggetti dette prima di accedere a un anticipo pensionistico all'età di 63 anni con almeno 30 anni di contribuzione l'appe sociale non è una pensione ma una prestazione di pari importo corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia anche per ottenere l'appe sociale è necessario effettuare due domande una prima domanda di certificazione di verifica dei requisiti di accesso e una seconda domanda di liquidazione della prestazione coloro che compiono i 63 anni entro il 31 12 2021 devono fare domanda di ape sociale di certificazione il prima possibile invitiamo i nostri utenti iscritti che sono interessati all'appe sociale o alla pensione anticipata lavoratori precoci di contattarci per fissare un appuntamento per una consulenza in merito e valutare se presentare domanda sono finalmente scaricabili dal sito IMS due documenti che sono particolarmente importanti per i pensionati uno è la Q del 2021 relativa alle pensioni percepite nel 2020 e l'altro è lo BISM vale a dire il certificato di pensione dove sono indicate tutte le caratteristiche della pensione percepita dal pensionato quest'anno in particolare l'IMS ha modificato questo documento che è scaricabile naturalmente dal sito e può essere scaricato direttamente dall'interessato provvisto di PIN o di SPID o può essere richiesto per gli iscritti al sindacato pensionati sono state in parte recepite le richieste fatte dai sindacati pensionati che chiedono da tempo dei documenti chiari e comprensibili la principale novità consiste nel fatto che l'OBISM che viene scaricato conterrà i dati relativi alla pensione disponibili in quel momento cerco di spiegarmi meglio chi ha diritto alla 14esima ad esempio a luglio la percepisce bene se il pensionato scaricherà l'OBISM nel mese di luglio vedrà che questo contiene l'indicazione della 14esima percepita oppure nel caso di supplemento o di modifica della pensione in corrispondenza del mese in cui verrà modificata la pensione o erogato il supplemento questa modifica comparirà anche sull'OBISM diciamo che ci saranno anche degli avvisi che l'Inps riterrà necessario trasmettere al singolo pensionato a seconda della propria posizione per noi è importante questa modifica perché una delle difficoltà maggiori è proprio quella di avere una situazione aggiornata della propria pensione e in questo non aiuta neanche la rigidità che riscontriamo da parte dell'istituto nel consentire ai sindacati pensionati che ricevono un regolare mandato dal proprio iscritto di andare a verificare ad esempio il cedolino di pensione mensile questo documento che dice, attesta ciò che il pensionato percepisce mese per mese è disponibile soltanto al momento se il pensionato possiede il PIN o lo SPID per poter accedere al sito. Speriamo di continuare in questa direzione di allargamento diciamo delle informazioni a disposizione dei pensionati in modo che questi così come un lavoratore dipendente controlla la sua busta paga possa anche avere la possibilità di controllare la sua pensione a mano a mano che la percepisce. A conclusione di tutto questo volevo invitare i pensionati nostri iscritti o che intendono iscriversi, che vogliono avere coppia cartacea sia della CUC che dell'Obisem a rivolgersi alle proprie sedi e noi provvederemo a consegnarlo. Feder Consumatori Parma si è trasferita in Largo Beccaria 17 ne parliamo con Fabrizio Ghidini che ci aggiorna anche sulle principali iniziative in cui è impegnata l'associazione. L'apertura della nuova sede provinciale a Parma in Largo Beccaria 17 rappresenta per la nostra associazione un risultato importante che testimonia una crescita avvenuta negli ultimi anni in termini di numero di pratiche, di numero di scritti, di numero di sportelli aperti sul territorio provinciale e allo stesso tempo rappresenta anche una sfida a migliorarci ulteriormente e a fare crescere la nostra capacità di tutelare i consumatori e i cittadini. Siamo impegnati su tantissimi fronti in questo periodo e stiamo raccogliendo le adesioni per una class action sui buoni fruttiferi postali tutti coloro che sono in possesso di un buono della serie Q possono rivolgersi alle nostre sedi per verificare la possibilità di aderire a questa azione che consentirà di rientrare in possesso di interessi che non sono stati riconosciuti da poste al momento della discussione del buono. Un altro fronte riguarda lo sportello online è possibile accedere a questa modalità di rapporto con l'associazione attraverso il nostro sito federalconsumatoriparma.it e quindi sperimentare una modalità per tanti cittadini che può essere più comoda, più agevole rispetto a quella tradizionale dello sportello fisico. è sempre attivo lo sportello per il supporto psicologico e lo sportello per l'attivazione dello spin quindi le cose che stiamo facendo sono davvero tante l'impegno che ci mettiamo è sempre grande e appassionato mi permetto di rivolgere un appello, una richiesta a coloro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane faranno la denuncia dei redditi di valutare la possibilità di destinare il 5 per mille a federalconsumatori Parma. Oggi siamo a Borgotaro per incontrare Sandro Santini storico, appassionato studioso e divulgatore della storia e delle tradizioni della montagna parmense e della lunigiana. Sono Sandro Santini, ho quasi 75 anni, sono nato a Parma sono laureato in medicina veterinaria, sposato con quattro figli e nove nipoti sono abilitato alla professione ho lavorato nel reparto Sieri per Immunio ho direttato un centro in grasso da 1200 torri ho lavorato le vecchie cooperative rosse, la Lega, adesso non sono più rosse mi occupo di storia, mi occupo di storia e valorizzazione del territorio da 50 anni sono di 50 anni fa in lunigiana è stata costituita un'associazione culturale, storica, etnografica che si chiama Manfredo Giuliani, dedicata a un grande storico io ne sono entrato a far parte perché avevamo trovato un perito presidente, poi preside, presidente dell'associazione da 51 anni che ci portava in giro a vedere, a imparare come era il paese come cambiava le tradizioni che si trovavano abbiamo fatto il museo etnografico della lunigiana, Villa Franca lunigiana io per un po' l'ho lasciata per ragioni di lavoro perché lavoravo a Siena, lavoravo a Ponte d'Era quindi non potevo essere presente poi abitando a Borgotaro dopo il matrimonio con i figli che nascevano era ancora più difficile e quando ho trovato un po' di pace ho fatto l'allenatore di calcio delle giovanili con l'aiuto di Bersellini avvantaggiandovi nel fatto che non avevo mai giocato quindi potevo allenare una laurea poi serve sempre in medicina però io mi occupavo di storia però me ne occupo sempre in lunigiana da 50 anni scrivo libri che devo pagare io perché nessuno me li pubblica sono socio della deputazione di storia patria delle province parmesi sono socio di questa associazione che dopo 50 anni ha ancora 577 soci non è un'associazione da boccette ecco, anche se il presidente ormai ha 87 anni però io seguo la lunigiana ma non la seguo per la storia perché la storia in si stessa non serve a niente la cultura in si stessa non serve a niente il ministro che è Franceschini che è un ministro serio ha fatto il ministero per i beni culturali, artistici e turistici e il turismo io dico sempre e consentitemelo è inutile che io metto a posto un borgo spendo dei soldi se poi non do la possibilità di valorizzarlo di farci aprire un'attività voi andate in lunigiana il borgo di Malgrato un castello che è una meraviglia una torre di 25 metri merlata tutto rimesso a posto anche nei soxta tre famiglie e questo non serve a nessuno non serve la conoscenza del territorio serve a questo a far turismo a dare occupazione a creare le guide dove non ci sono soprattutto altre possibilità di lavoro se io stando in lunigiana evidentemente non c'è un'azienda non c'è una fabbrica non c'è neanche un artigianato tipico a parte il marmo ma è a Carrara voglio dire tutti vengono a lavorare a Parma vengono il mio figlio lavora a Fornovo sono tutti lunigianesi a lavorare lì e quindi questo è importante è il far conoscere ma è il far conoscere anche le tradizioni e la storia perché se uno sa come si viveva voi pensate che c'è lo scrittore lunigianese del 400 Giovanni Antonio D'Afaie che ha scritto le sue memorie dice che nel 430 la castagna era per due terzi il pane della lunigiana si chiamava lui l'ixana non si chiamava lunigiana è per due terzi ma chi è che sa che mangiavano le castagne poi la lunigiana ha dei beni che nessuno ha voi pensate una terra piccola che va dal mare va da Luni arriva al passo della Cisa al Cereto l'altro giorno ho raccontato la storia del Buffardel l'ho pubblicata su Facebook io lavoro, ho la rubrica su Facebook faccio vedere la lunigiana su Facebook faccio vedere la Valtaro su Facebook faccio vedere però anche l'etnografia come si viveva e c'è della gente che mi ha ringraziato i giovani non le sanno non le guardano forse però c'è della gente che mi ha ringraziato ho risentito delle cose che non sapevo più io sto lavorando su Tiedoli ho sentito la popolazione perché sto lavorando su Tiedoli Brugnoli hanno fatto l'articolo l'ho detto sulla Gazzetta di Parma mi hanno mandato perché Tiedoli è una realtà turistica potenziale Tiedoli era un villaggio ligure si vede dalla toponomastica è nominata nella tavola alimentaria di Veleia c'è una casa un podere che si chiama Casa di Foladori Foladori erano quelli che infeltrivano la lana quindi c'erano le pecore tra l'altro è Testanello è una società fondiaria l'unica nella tavola alimentare Tiedoli c'era una fortificazione bizantina che controllava il Taro controllava quella di Rocca Morata Tiedoli è citato nel diploma del Barbarossa in Malaspina nel 1164 Tiglietum ci sono una serie di atti nel registro magno del Comune di Piacenza dopo la partenza dei Malaspina del 1196-1216 che dicono ha stato affittato questo o quello cioè Tiedoli c'è la casa degli anziani promossa da Tomasini che è importante c'è della gente che non ha niente da fare c'è una chiesa del 602 Campanili che è una meraviglia quindi voglio dire se noi riusciamo a creare lì un qualcosa un qualcosa anche gli anziani che sono lì possono essere interessati ad accompagnare una persona a vedere il castello perché ci sono i ruderi del castello che ci ho messo sei mesi per andare a vedere li ho visti però sono lì davanti alla chiesa c'era un convento è stato abbattuto ci sono ancora le tracce io lo dico sempre ai giovani ne conosco ho i figli ma ho anche i nipoti li conosco seguite il territorio conoscetelo giratelo perché se non lo girate e non parlate con la gente non lo sapete qui vedo uno mi ha detto come c'è il castello a Tiedoli perché non ha mai girato il territorio una signora della nostra età mi ha detto ma dov'è Costerbosa perché non conoscono il territorio non lo conoscono i vecchi figurati i giovani io vorrei che andassero e parlassero con la gente perché una volta ci si andava a parlare con la gente si andavano e ora non ci va più nessuno nel salutarvi vi ricordiamo che per domande e suggerimenti sugli argomenti da trattare potete scrivere all'indirizzo mail mediaspi chiocciola cgeleparma.it arrivederci alla prossima puntata tutto il bene del mondo tra il ponte ciao a tutti ciao a tutti